Buon salve a tutti, io sono Roberta e lei è Nugget, e oggi siamo qui per parlare di alte tradizioni sarde, magari un po' spucchi, così proprio perché ad ottobre bisogna essere a tema Halloween. L'altra volta vi ho raccontato di Sassurbile, una delle antenate sarde di Edward Cullen, che non era altro che una compaesana particolarmente mal vista da tutto appunto il circondario, che veniva dittata come strega, come una specie di vampiro che andava la notte a succhiare il sangue ai bambini. Ma non è l'unica figura del folklore sardo che incute paura, anzi diciamo che i sardi proprio amano questo genere di cose, e oggi voglio raccontarvi invece dei tori mannari. Sì, avete capito bene, è quello che mi avete più richiesto sotto l'altro video, quindi ho pensato bene di portarlo ovviamente. Partiamo col dire che esistono in realtà due leggende su questi tori mannari, uno è Suvo e Muliake e l'altro è Serchitto. Spesso e volentieri sono confuse fra loro, o viene pensato che sia la stessa storia, ma denominata in due modi diversi perché in Sardegna ci sono tantissimi dialetti, e che quindi sia solo una variante locale. Ma in realtà sono due racconti estremamente simili, ma comunque differenti all'origine. Suvo e Muliake è proprio più il lupo mannaro, nato tale. È una maledizione che ci si porta fin dalla nascita, e che ci obbliga a trasformarsi in tori ogni volta che spunta la luna piena. Si dice che poi questo toro vaghi, grappisca i bambini, li mangi oppure spaventi la gente, ma comunque non è la cosa più interessante. Secondo me il racconto di Serchitto è molto più bello e interessante da scoprire. Chi è Serchitto? È una persona normalissima, che però ha commesso un grave peccato. Un peccato però che non è conosciuto da tutti, o conosciuto proprio da nessuno. Qualcosa che solo Dio conosce, o che la sola persona conosce. Se qualcuno se lo stesse chiedendo, no, non sorprendetevi dei continui riferimenti a Dio, al cristianesimo, perché il paganesimo sardo si è evoluto e si è fuso con il cristianesimo nell'isola. Quindi è molto comune il fatto che Dio o i peccati siano una parte integrante della leggenda. Ma comunque, siccome questo peccato non è conosciuto e non è punito dalla legge, il divino si occupa di punire sulla terra, nel mondo terreno, la persona. E la trasforma appunto ogni luna piena in un toro, in un bue, che ha il compito di vagare per il paese. Ovviamente non è da solo, è seguito da un corteo di diavoli che suonano, o meglio fanno rumore, con svariati strumenti musicali, fra cui le trombe. Tutte queste figure marciano per il paese facendo baccano, spaventando la popolazione. E il momento clou è quando il serchitto si ferma davanti a una casa e mugisce tre volte. Questo è un segno che gli abitanti di quella casa avranno presto un morto fra loro. Quindi il compito di serchitto è annunciare la morte altrui. Ma comunque non è che si ferma qui. Viene vissuto tutto ciò dalla persona come una maledizione, perché è una trasformazione non volontaria con cui non sei nato e che è una punizione divina. Quindi tutto ciò non è cosciente talvolta, ma altre volte è talmente cosciente che queste persone ci soffrono a dover annunciare la morte dei propri compaesani. Ci sono leggende che parlano di questi uomini che si trasformavano in tori e quando venivano catturati venivano magari sgozzati, appesi a dei ganci. E la mattina dopo, nel momento in cui il sole colpiva il corpo di serchitto, si ritrasformava in uomo, rivelando appunto la natura umana che tutti non pensavano esistesse. Cioè, pensate a una figura che porta la morte, odialta da tutto il paese, che poi si scopre essere un umano, un loro compaesano, un loro amico. Che fra l'altro non aveva deciso questa sorte, quindi stava facendo tutto per obbligo divino. Veniva punito, quindi non solo dal divino, ma anche dai compaesani. Però, secondo la leggenda, tutto questo, l'Erchittu, se lo merita perché c'è un peccato di base che lui deve espiare. Quindi qualsiasi cosa succeda è colpa sua e se lo merita. La cosa più interessante però è che dalla maledizione ci si può liberare. Ma come? È abbastanza strano, ma una persona a te cara deve sapere che tu sei l'Erchittu, ti deve aspettare e nel momento in cui tu ti pari davanti, questa non deve esitare, non deve guardarti negli occhi, ma anzi deve prendere una scure d'argento e tagliarti entrambe le corna in un solo colpo. Insomma, non la cosa più facile del mondo, soprattutto se davanti hai un bue enorme con le corna e giganti che vuole annunciare la morte altrui. E soprattutto seguito da un corteo di diavoli. Ma comunque nella tradizione sarda ci sono storie di serchittu pentiti che vengono salvati. Quindi evidentemente è raro, ma non impossibile. E nulla, per oggi ho finito di blatterare, spero che questa leggenda del folklore sardo vi sia piaciuta. Io vi ringrazio come al solito per tutto il supporto, il supporto che date al canale, grazie fra l'altro per i 2500 iscritti che abbiamo appena raggiunto. Io come al solito vi lascio le fonti qua in descrizione e vi invito ad approfondire ovviamente. Ma comunque, grazie, grazie, grazie per aver seguito. Noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao, ciao, bimbi belli! Noi ci rivediamo in un prossimo video.